Noi lo presentiamo oggi qui a Teramo perché la nostra azienda è un'azienda del territorio, del Teramano e quindi abbiamo pensato di fare anche questa data che è la data che precede il momento in cui le farmacie incominciano a distribuire gratuitamente ai cittadini il calendario della salute per l'anno prossimo di fare la presentazione localmente. A livello nazionale è stato già presentato durante il convegno di Farmadeis alla presenza anche del ministro Balduzzi all'inizio di ottobre a Verona e appunto come diceva lei il tema del 2013 è un tema molto sentito in questo momento perché c'è stato un momento di forte discussione proprio quello delle vaccinazioni. Consigli sulle vaccinazioni, su quelle che sono le vaccinazioni obbligatorie su quelle che sono le vaccinazioni facoltative però raccomandate dallo stesso ministero della salute e su quelle che sono le vaccinazioni e anche diciamo la profilarsi per chi si reca all'estero o in paesi particolari.